Mercoledì 31 di marzo, benvenuti da Alberto Olivieri, il videogiornale di Senigallia Notizie. Omicidio a Roncitelli, da sette anni subivo le sue violenze, l'altro ieri mi ha aggredito con un bastone, allora io sono corso in casa, ho preso la pistola per difendermi e mentre lui mi veniva addosso ho sparato. In due ore e mezzo di interrogatorio, Loris Pasquini, 73 anni, ex ferroviere, ha raccontato i fatti avvenuti il 29 di marzo a Roncitelli di Senigallia quando ha sparato un colpo di pistola contro il figlio Alfredo, 27 anni, uccidendolo. Marche Covid-19, la curva pandemica nelle Marche rallenta, anzi no, nella giornata del 30 di marzo a Quaroli durante il Consiglio regionale aveva parlato di andamento incoraggiante ma a distanza di 24 ore la situazione sembra peggiorata. La regione non ha alcuno strumento di intervento davanti a dati che ci condannano nella cabina di regia, dice Quaroli, è dura e difficile per tutti ma cerchiamo di essere scrupolosamente attenti nella nostra quotidianità. Sempre il presidente Quaroli annuncia la ripartenza dell'aeroporto di Falconara, 11 rotte, 9 di queste riguardano nuove tratte che a partire dai prossimi mesi collegheranno le Marche al resto d'Italia e all'Europa. Sentiamo. Dopo tanta programmazione e tanti investimenti regionali l'aeroporto delle Marche finalmente può ripartire. Sì, riparte, è un bel segnale per la nostra economia, è un bel segnale in un momento difficile e soprattutto un'opportunità che noi dobbiamo raccogliere per rilanciare il nostro territorio e rilanciare la nostra capacità di fare turismo e anche di dare un servizio ai nostri cittadini marchigiani. Tre Castelli. Il Comune si costituirà parte civile nell'eventuale processo penale per i gestori dell'allevamento canino di Tre Castelli, indagati per reati legati alla mala gestione dei cani ospitati nella struttura. Purtroppo il Comune è salito alla ribalta della cronaca internazionale non per le sue eccellenze ma per un caso unico in Europa di contagio da brucellosi canina. La regione Marchia ha già stanziato 200.000 euro a copertura delle prime spese accollatesi dal Comune. Sempre a Tre Castelli sono iniziati gli interventi del Centro Storico di Ripe. Il progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta Comunale prevede il recupero di un vicolo e di una scalinata. Il sindaco Sebastianelli dice che è nostro dovere attuare un'attenta programmazione e una progettualità che guardi alla rivalutazione dei nostri beni. Senigallia in Consiglio Comunale è stata respinta dalla maggioranza la mozione sul conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Occasione persa per la nostra città che storicamente ha sempre condannato la violenza, qualsiasi sorpruso e qualsiasi mancanza di rispetto dei diritti di base dell'uomo. Lo sostengono i gruppi di minoranza. Corinaldo, bilancio di previsione 2021-2023, la prudenza come caposaldo, oltre 1.600.000 euro per le mura e 1.000.000 di euro ridistribuito alla comunità. La programmazione annuale 2021 è sposta dall'assessore Rosanna Porfiri. Nell'ultimo Consiglio Comunale si sviluppa all'interno di un contesto generale, ancora segnato dagli esiti di una crisi di sistema, i cui effetti negativi si stavano affievolendo in favore di piccoli spiragli di ripresa che iniziavano a consolidarsi. Attenzione perché da domani i nati nel 2002 possono accedere al bonus cultura. Sentiamo. A partire dal 1 aprile fino al 31 agosto 2021 i giovani nati nel 2002 potranno accedere al bonus cultura. Il bonus cultura dà diritto ad un bonus del valore di 500 euro spendibili per promuovere la cultura fra i giovani e quindi per cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, ma anche monumenti e parchi, teatro, danza, editoria, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera. Che cosa devono fare quindi i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020? È sufficiente che siano muniti di identità digitale, quindi di speed, e che accedano al sito 18app. Eccoci di nuovo in studio. La foto di oggi che appartiene alla rubrica Una foto al giorno, che trovate al centro della nostra home page, è di Claudia Barboni dal titolo Vicino al Misa. E diamo un'occhiata alle previsioni del tempo di giovedì primo di aprile sulle Marche. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di circa 24 gradi, la minima di circa 8. I venti saranno moderati, il mare quasi calmo. Questa era l'ultima notizia, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Senigallianotizie e l'appuntamento è per domani, per la prossima edizione. Vi aspetto. L'app Senigallianotizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallianotizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Grazie a tutti.